Sotto pressione le pompe di questi vicili del poco partenopei. Niente paura, nessun incendio. Si limitano a salutare Napoli a modo loro prima di imbarcarsi sulla bianca nave che li porterà a Dischia. Si recano nella bellissima isola per occupare un'ampia moderna caserna costruita dall'amministrazione provinciale. Ma prima di raggiungere la nuova sede vogliono dimostrare alla popolazione la loro pulmina efficienza. In pochi minuti ecco pronto un accampamento. E in pochi istanti gli idranti sono in grado di spegnere qualsiasi incendio meno quelli che il Galeotto Sole e il complice mare di Dischia fanno nascere nei cuori dei giovani turisti di tutto il mondo.